La Piazza del Scampanesso su un seguito, da parte del centro sfondo, si è guardato, per una città, e guardate sulla destra, metà la mia motrice, nei cornelli, che scendono le donne, le donne, le donne, le donne, la loro squadra, che non entri nel seicento, dopo di due cento anni di minaccia tutta, sono riusciti a sfingere, la mia motrice, i copi, la mia motrice, la mia motrice, La mia prima parte è la mia principale della giornata per le casse, ma bellissimi palazzi storici. Adesso fino a questa parte sono palazzi che risalgono al 100%. Adesso comincia ai palazzi infetti anche qui sulla destina, e adesso quando usciamo da questa stradina dovete tenere lo sguardo sulla destina, per un attimo vedrete l'isola sull'amuro. L'isola sull'amuro è stata fatta da un italo americano, un italo aceto, quella che c'è la casa dell'altro, è un'attività. Pronto, noi abbiamo un'attività, 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 e un'attività, 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 è un'attività che si è un'attività, 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 un'attività di un'attività, 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 ma è stata fatta da me, che hanno fatto nella metà dell'Ottocento, da un architetto che si chiama Amato Gialek, un'attività, e che per questo deve portare a noi questa costruzione. E' un'attività. La strada, che stiamo percorrendo adesso, guardate un attimo dietro a voi, è una costruzione, che era la torre dei Francescani. La strada, che stiamo percorrendo, è la Annelstrasse, che regna proprio su questa strada. Questa chiesa barbocca è la chiesa del Padre Piene Fratelli, che è stata costruita nel Seicento, e quindi il cartello dell'imperatore, per tirando secondo, per tirando secondo, ed è importante, quello che ha fatto la controriforma, nel nostro paese. Abbiamo accettato 300 di cartelli, per tirando secondo, per tirando secondo, per tirando secondo, che è quello che ha fatto la controriforma, nel nostro paese. per mettere su una scuola della conversazione. uno in questa scuola, una di queste scuole, per esempio, la FAT con il patrimonio culturale mondiale per le sue belle chiese, per esempio il sanziuscirlo, per il nostro paese ha già fatto molto bene, la pubblicità, l'unica eccezione infatti è questa torre, che è stata costruita. E' stata costruita, la città è una delle prime case della città, abbiamo una casa di cui si sa l'intercento e si vede la cura di queste, e guardate là, è proprio il vero Santo Cristofolo, secondo te si porta in un'altra scuola, e questo è il testo, e quindi può sia agli ebrei in un normale della città, che anche alla delle lezze, di valgetto, e se guardate, portano in un gesto, nella nostra città, perché è ancora quella, che si è allargata, perché prima avevamo qui i russi, che sono da quello che siamo andati, e poi si è allargata, e mentre i cammini sono andati, . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.